che si creda o meno che ci si schieri dalla parte degli scettici o da quella dei fedeli una cosa è certa poche figure hanno incarnato il sentimento popolare del meridione del sud dell'italia come padre pio che dal 16 giugno del 2002 è santo proclamato da giovanni paolo secondo le stimmate le previsioni quel profumo floreale che lo accompagnava dicevano almeno che l'accompagnasse quando si palesava i miracoli sono tutto rappresentano tutto il corredo narrativo che ha accompagnato l'ascesa spirituale di questo frate cappuccino venuto da un paesino del beneventano nato in quel in questo posto che si chiama pietrelcina al quasi alle porte di benevento oggi questo paesino all'epoca rurale composto di poche case abitato da poche persone è una meta di prelegrinaggio affollata da migliaia e migliaia di persone ogni anno allora i toni è una figura sicuramente controversa quella di padre pio i toni sono su di lui sono sempre stati contrastanti basterebbe ricordare il giudizio che ne diedere padre agostino gemelli che oltre essere un noto medico psicologo e anche consulente del sant'uffizio lo bollò come un isterico e tutte le sue diciamo stimmate le ferite che gli segnavano il corpo come frutto di un'azione patologica morbosa insomma un grande bliff secondo gemelli e secondo padre gemelli e questo giudizio così influente così autorevole condizionò a lungo l'opinione che gli ambienti vaticani avevano del frate di pietrelcina ci fu bisogno di un'altra personalità forte coriacea abituata alla lotta come quella di papa oitila per appunto far proclamare santo una figura che tuttora resta molto controversa paradossalmente il culto popolare intorno a padre pio è cresciuto ancora di più dopo la sua morte sarà forse per il carattere scorbutico alieno alle mediazioni testardo che questo frate cappuccino aveva e che non si curava di nascondere e questo tratto coriaceo coincide appunto con lo spirito popolare del mezzogiorno un mezzogiorno che resiste nonostante tutto nonostante le piaghe le ferite e continua a sperare ecco diciamo che i miracoli di padre pio sono un simbolo di questa speranza che non muore nonostante le ferite inferte dalla vita ai uomini alle donne del sud e anche le dimenticanze di uno stato che spesso non è stato particolarmente prodigo come invece fu padre pio di speranze 16 giugno